Occorrono insegnanti, non solo, va bene, io do già per scontato che siano preparati, che abbiano delle competenze, ma che abbiano quell'entusiasmo, che siano trascinanti, quella forte motivazione all'apprendimento, quella voglia di andare a scuola e di dire vado a divertirmi. Perché? Uno, comprendere che occorre costruire. Il cittadino attivo tu lo formi sin da subito, sin da subito. Creare quel senso di responsabilità sociale per un adulto è perché l'hai formato da piccolo. E come si forma da piccolo? Come si forma man mano che si cresce? Dandogli un ruolo nella comunità, nella società, man mano, potendo anche interloquire con alcune persone. I ragazzi che noi solitamente vediamo in televisione, che fanno quelle manifestazioni dove sfasciano vetrine a destra, a sinistra, e non è che sono ragazzi cattivi, sono ragazzi arrabbiati, ok? È una rabbia sociale. Cosa, se tu a questi ragazzi li porti nelle condizioni di, ok, ragioniamo cosa c'è che non va, secondo me, i we debate nelle scuole sono fondamentali. Non basta soltanto dare lo spazio, tu come la pensi e alzi la mano. Tu cosa ne dici e alzi la mano. Il we debate deve essere propositivo e costruttivo. Osservato il punto di vista degli altri, giungiamo ad una conclusione. Come possiamo risolvere? Cosa volete fare? Come possiamo muoversi? Chi volete invitare? Invitare? Non puoi invitarlo come? In classe utilizzi lo strumento, diciamo, digitale. Inviti qualcuno. Ma i ragazzi dovrebbero, per esempio, i ragazzi di politica se ne intendono, hanno una loro idea, ma avere un concetto di politica, e io non parlo di politica inteso come partito X o partito Y, via discorrendo, l'amore per la politica intesa come linguaggio universale per far star bene la comunità, va preso a scuola. E se i politici potessero, ma di qualunque fazione partito politico, potessero interagire in uno scambio di crescita culturale, far capire il paese vostro, lo dobbiamo crescere insieme, ma tu sai che forza? Certo, infatti guarda. Che realtà si va a creare? Certo, infatti guarda.